Partiti! Di Lorenzo che può accelerare va quindi per Politano sulla destra che ora va in orizzontale il servizio per Di Lorenzo, il cross verso il centro, il Ciuchy Lozano! Goal! 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 E il Ciuchy Lozano porta in vantaggio il Napoli! Napoli 1! Atalanta 0! Cosimen travolto dagli avversari ma c'è la norma del vantaggio perché la palla va a Mertens quindi a Lozano, Lozano, il tiro! Goal! Il Napoli raddoppia! Napoli 2! Atalanta 0! Fabio Roez che si gira, va da Politano che va in orizzontale verso il centro Politano, Politano potrebbe tirare lo fa! Goal! 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 Politano! Un gol clamoroso! Un gol incredibile! Politano! Napoli 3! Atalanta 0! Lancio lungo per Osimen che stoppa il pallone! Si porta al limite! Il tiro! Goal! 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 Osimen! Ora il Romero che va via molto bene regala un pallone d'oro all'Ammers che entra in aria! Il tiro e il gol! Non poteva sbagliare l'olandese e segna il gol del 4 a 1! Ancora Di Lorenzo si gioca davvero in pochi metri quadri! Ora Lozano va a parpetagna! Lozano in aria! Lozano il tiro! Miracolo di Sportiello! Calcio d'angolo! Sfiora la tripletta! Il ciuchi Lozano!